Il mercato lo osserviamo da Madrid, ci piace vedere questa vivacità, sappiamo della Romagna, l'Italia con questi cambiamenti climatici vi ha creato qualche problema? Non solo in Romagna, i cambiamenti climatici sono globali e lo stiamo vedendo anche sul mercato di altri prodotti che non sono tipici di quelli della Romagna, però noi diciamo che quest'anno abbiamo avuto un'annata particolarmente difficile, però il mercato sta rispondendo bene, nonostante avessimo le preoccupazioni per le produzioni del paese concorrenti come appunto quello spagnolo, comunque è stata un'estate dove il mercato ci ha dato delle soddisfazioni, purtroppo il livello produttivo è talmente scarso che per i produttori sarà comunque un'annata da dimenticare, ma io vedo comunque un mercato che chiede che si sta riattivando e dove le difficoltà anche di reperire prodotti in quantità sufficienti stanno diventando un po' strutturali e quindi sono fiducioso per il futuro, spero che pure in una condizione climatica sempre più estrema e da cui bisognerà correre il riparo nel miglior modo possibile con tutte le armi che abbiamo e che la tecnologia ci mette a disposizione, però per il futuro vedo un mercato più attivo, un mercato che credo ci darà maggiori soddisfazioni. Noi vediamo molte innovazioni appunto con nuovi prodotti, quindi stiamo già un po' cambiando anche con questi prodotti nuovi un'idea del fresco diverso per i mercati. Sì, prodotti nuovi e anche prodotti o imballaggi che oltre al rispetto dell'ambiente che è un mood che ci ha accompagnato negli ultimi anni e anche con confezioni più adatte a quelli che sono i nuovi stili di consumo e quindi famiglie più ridotte come numero di componenti, consumo più veloce e quindi confezioni anche più a misura di questa nuova realtà e quindi con prodotti nuovi che quindi da una parte incuriosiscono, da una parte rispondono meglio l'esigenza del consumatore attuale che cerca il gusto ma cerca anche la praticità e dall'altra parte ci affianchiamo anche delle confezioni che vanno in questa direzione, quindi confezioni che siano più comode, sia da portare a casa, sia da tenere in frigo anche perché lo spazio a casa è poco per tutti e che generino meno spreco perché dei soldi poi da buttare via non ce ne sono e quindi anche qui stiamo lavorando molto in questa direzione e stiamo ottenendo dei risultati sia nel convenzionale ma anche e soprattutto con i prodotti biologici. Noi vediamo che anche questo biologico, il consumatore è sempre più attento ai prodotti sostenibili e più rispettori dell'ambiente. Sì, il biologico ha pagato negli ultimi anni un po' l'equivalenza di biologico uguale prodotto caro e quindi alcune categorie di consumatori l'hanno evitato e proprio lavorando sulle confezioni, quindi lavorando su comunque una battuta per unità di vendita che sia accessibile a tutti stiamo veramente avendo delle soddisfazioni e vediamo una ripresa importante anche delle vendite. Dovesse dare un consiglio al ministro visto che è qua nei paraggi? Ma i consigli del ministro, penso che il ministro siano in tanti a dare consigli. Quello più pratico? Quello più pratico, ma io penso che qui bisogna investire, investire nell'agricoltura, investire nelle nuove tecnologie, investire in tutto quello che ci consente di tutelare le produzioni dalle avversità climatiche e di andare incontro a quello che vuole il consumatore. Quindi meno interventi a pioggia, più interventi mirati che vadano incontro al futuro del consumo perché soltanto se c'è domanda per le nostre produzioni avremo un futuro invece e non in altra maniera. Quindi promuovendo in qualche maniera le produzioni in altri territori, trovare in qualche modo anche nuovi mercati che mi sembrano apparire all'orizzonte nuovi mercati. Ma nuovi mercati ce ne sono, sappiamo che aprire un nuovo mercato è sempre difficile, è sempre dei tempi lunghissimi perché purtroppo oltre all'impegno che ci deve mettere il Ministero, che ci deve mettere l'Italia per avere gli accordi, per aprire questi nuovi mercati, poi ci sono anche tutte quelle che sono forme di protezionismo che ostacolano questi processi. Io credo che si possa fare bene sia sui nuovi mercati, ma penso che ci sia tanto da fare bene anche sul mercato italiano e sul mercato europeo. L'importante è essere messi in condizioni di produrre e di avere una garanzia che gli investimenti importanti che sono necessari oggi per produrre tra impianti, protezioni dal gelo, protezioni dalla grandine, tutte queste cose qui, se non c'è qualche strumento che aiuti gli agricoltori a fare questi investimenti e che dia un po' di garanzie, il rischio è che tanti si tirino indietro. Strutturare meglio il campo per andare al mercato? Assolutamente sì.